Bene, bene, vediamo, vediamo in questo video, parliamo un po' di relazioni tossiche. Le relazioni tossiche, come si manifestano e perché, diciamo, ci coinvolgiamo sulle relazioni tossiche. Perché, diciamoci la verità, nel 99% cosa sono le relazioni tossiche? Sono relazioni che noi andiamo a suffragare, che noi andiamo a, diciamo, cercare da un certo punto di vista. Perché non è che ti puntano una pistola da tempia a una relazione tossica. E purtroppo dobbiamo imparare a responsabilizzarci. Io credo che dipenda proprio dalla voglia di responsabilizzarsi, la capacità di superare quelle che sono le relazioni tossiche. Semplicemente, mandando a fanculo la persona con la quale non ti trovi bene. Manda a fanculo. Questa è l'unica soluzione. Quando stai in una relazione tossica devi chiuderla. Perché poi ci sono mille tipi di relazioni tossiche, ringrazio Rose, ci sono mille tipi di relazioni tossiche che si possono manifestare. Ma fondamentalmente una relazione tossica quando non ti appaga, quando non ti dà quello che tu vuoi. E questo è un qualcosa di fondamentale. E' ovvio che, come dire, una donna quando è che si aggancia a relazioni tossiche? Quando ad esempio pensa di non avere altre chance. Ma intanto devi cercare di diventare tu più attrattiva. Se vuoi attrarre, diciamo, anziché le merde, vuoi attrarre le farfalle, come dire, diventa un bel giardino. Quindi impara intanto a valorizzarti. Impara a valorizzare te stessa. Questo veramente è fondamentale. Se non ti valorizzi tu, chi vuoi che ti valorizzi? Certo che se non sai scrivere in italiano, non sai, come dire, sei ignorante come una capra, e hai tutte queste situazioni, beh, è come dire, è difficile attrarre uomini di qualità. Ma comunque, in qualunque siano le condizioni, tu devi dare, imparare, dar valore a te stessa. Imparare a chiudere drasticamente una relazione quando c'è qualcosa che non funziona. Non credendo assolutamente alla morca nulla amata ma perdona, perché questo purtroppo è la spada di Damocle sulla testa delle malgascione, no? Le malgascione che iniziano a dire, eh vabbè ma io lo amo, io lo amo. Io quando sento dire, io lo amo, io lo amo, dico, vabbè, come dire, ma come si fa ad avere il coraggio di amare una persona che non è disponibile nei tuoi confronti? Come puoi amare una persona che ti manipola? Come puoi amare una persona che ti tratta male? Cioè è veramente un qualcosa che non ha senso, no? Quindi bisogna recuperare la propria capacità di gestire la propria vita. Perché se non gestisci tu la propria vita, che cavolo deve gestirla? La gestiranno gli altri. E questo purtroppo, se tu non prendi decisioni, cara malgasciona, le decisioni le prendono gli altri. Quindi devi toglierti dai coglioni, devi toglierti dai coglioni, delle persone che sono persone sbagliate. Perché fin tanto che un bicchiere pieno non si potrà svuotare, non si potrà riempire di altro, prima devi svuotarlo e poi dopo troverai altre situazioni, altre persone. Quindi questo è il punto fondamentale. Se tu vuoi superare le relazioni tossiche non devi alimentarle, devi mandare a fanculo. E questo è un dato di fatto, no? Manda a fanculo, una parola basta, va a fanculo e chiudi. Come riconoscere le persone tossiche? Beh, intanto le riconosci perché, come dire, non ti danno quello che tu vuoi. Questo è un punto fondamentale, no? Una relazione tossica non ti dà quello che vuoi. Cioè ti fa sentire a disagio. Ci sono dati soggettivi e oggettivi, perché è ovvio che tu ti puoi innamorare di che cavolo vuoi, no? Ma nel momento in cui ti innamori di una persona che ti tratta male, ma anche una persona piena di problemi, perché diciamoci la verità, ma perché andare a innamorarsi di persone piene di problemi? Possono essere problemi economici, problemi di salute. È comunque una relazione che va iniziata soltanto, secondo me, quando una persona ti può dare del benessere, non del malessere. Come dire, è come quello che se ti sposi una persona triste, depressa, non è che sarà o un puro nettilista o un qualcuno che ha problematiche di varia natura, è meglio lasciar perdere, no? Anche un ergastolano non è consigliabile sposarsi o frequentare. Molto meglio cercare persone che ti fanno, che ti danno del benessere. Ovviamente non bisogna agire su un piano emozionale, perché le emozioni purtroppo non sempre ci fanno innamorare della persona giusta. Diciamo che se bisogna imparare a dare forza alla sfera logico-razionale, perché è evidente che l'innamoramento è spesso emotivo, anzi quasi sempre emotivo, ma le emozioni non è che ci fanno andare sempre nella direzione giusta. Può darsi talvolta che noi viviamo delle emozioni, ma emozioni anche negative. Perché diciamo la verità, quelli che si innamorano di un manipolatore, o quelli che si innamorano di un manipolatore, non è che, come dire, non se ne rendono conto, perché comunque 2 più 2 fa 4, sempre 4 e solo 4. Se uno ti fa gaslighting, ti dice, ah tu sei pazza, tu non capisci niente, io non ho mai detto questo, io non ho mai detto quell'altro, e tu ti rendi conto che, diciamo, che hai a che fare con una persona negativa, che è da sempre la colpa a te, che ti vuole controllare, che ti vuole dominare, che lui è pieno di problemi e tu non lo mandi a fanculo, come sono fatti i tuoi. Cioè, come dire, basta non lamentarsi, no? Perché uno può dire, no, vabbè, ma io voglio stare con una relazione tossica. Voglio stare con una relazione tossica, diciamo, anche una relazione che mi fa soffrire, a me mi va bene. E allora, se ti va bene a te, va bene a tutti, no? Però non devi lamentarti. Invece poi la margassona si lamenta. Quindi lamentarsi quando state invischiati in relazioni tossiche è la cosa peggiore che potete fare. Perché, come dire, bisogna chiudere la relazione. E questo è il primo punto fondamentale. Riconosci con una relazione tossica anche da un punto di vista comportamentale, da come si comporta questa persona. Se una persona si comporta nei tuoi confronti proiettando, cioè, ecco, la proiezione è un mecanismo dove praticamente ti vengono addossate a te le responsabilità degli altri. Cioè, una persona che fa la gelosa, ma poi la prima a farti le corna, ad esempio. Una persona che ti dice che sei tirchia o tirchio quando il tirchio evidentemente è lui. E questo è un qualcosa... Diciamo, le persone manipolative sono anche bugiarde patologiche. Sono anche bugiarde, diciamo... E quindi, se uno ci resta, non è che... Cioè, allora, quando una persona mi dice Ah, io non so come uscirne, dico, non è vero che non sai come uscirne. Perché per uscirne basta un vaffanculo. Punto e basta. Non è che serve tanto. Se uno mi dice, io non voglio uscirne, ho paura ad uscirne, ma non so come uscirne, no. Perché sapere come uscirne, basta mandare a fanculo e chiudere e rivolgersi ad altri. Molto semplice. Non è che richiede una grande scienza per, diciamo, andare a fanculo e rivolgersi ad altre persone, ad altre situazioni. Se non lo fai, non è perché non sai come fare. È perché probabilmente non vuoi farlo. È perché comunque quelle persone lì ti danno anche emozione. E quindi tu ti agganci proprio a persone che ti danno... a persone che ti danno emozione. Poi è vero che anche, diciamo, la madre degli idioti è sempre incinta e quindi qua gli idioti, diciamo, pullulano, pullulano. Però bisogna imparare, diciamo, a gestire al meglio, a gestire al meglio le situazioni, no. Quindi se tu riesci ad ottenere dei risultati, risultati, questi risultati li puoi ottenere ovviamente soltanto attraverso l'autostima. È solo la tua autostima che ti può salvare da questo punto di vista. Non c'è niente come l'autostima che ti può dare energia, che ti può dare forza. Impara ad amare te stesso e impara a renderti conto che le persone manipolative tenderanno a farti gaslighting, cioè tenderanno a farti passare per pazza, tenderanno a proiettare, cioè ti appiopperanno delle cose che non hanno nessun senso e tenderanno anche a, in qualche modo, denigrarti, squalificarti e quindi, se tu vuoi superare queste situazioni, devi sviluppare l'autostima. Ed è molto importante imparare a sviluppare l'autostima. Poi spiegherò esattamente come fare. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella, ovviamente così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti ovviamente i miei canali YouTube. Ovviamente puoi fare donazioni al canale, se il canale ti piace, fai donazioni al canale che è sempre ben gradito, ovviamente, se il video ti piace. Insomma, puoi fare donazioni al video.